ci sono alcune cose che mi piace particolarmente fare ci sono situazioni che mi piace particolarmente vivere tra queste una è sicuramente nota ormai a tutti ed è alzarmi e vivere presto la mattina è così da sempre mi è sempre piaciuto vivere quelle ore in cui ci sono in giro pochi rumori poche persone pochi messaggi in cui si hanno il tempo e lo spazio che si vuole sono momenti in cui ritrovare il mio ritmo in cui organizzare i pensieri in cui godere di quel silenzio che abita queste ore con leggerezza momenti in cui la natura si risveglia al mio fianco ma con calma momenti in cui mi piace guardare il sole che sorge insieme a me tutto è apparentemente calmo niente sembra muoversi e ci si può fermare a contemplare questo stato delle cose ultimamente c'è un altro momento che mi procura altrettanto piacere e serenità ed è quando in queste ore riesco ad andare a correre ad attraversare una città che deve ancora partire mentre la raggiungo in punta di piedi e tutte le sensazioni che ho appena descritto tornano altrettanto intensamente vere e belle ma sotto un'altra forma e con un altro ritmo